Nuove regole sulla durata e utilizzo del Green Pass. In attesa del prossimo Consiglio dei Ministri, convocato per oggi a Palazzo Chigi, che dovrà decidere su DAD quarantene, tamponi e colore delle regioni, il Governo sceglie la linea soft e fissa una data per i primi allentamenti, prorogando di solo 10 giorni e fino al 10 febbraio l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Un primo segnale che, se la curva epidemiologica continuerà a scendere, anche altre misure potrebbero essere allentate nelle prossime settimane. Intanto, da ieri, primo febbraio, la durata del Green Pass vaccinale e del Green Pass da guarigione post-vaccino avrà validità di sei mesi, ma potrebbe essere allungato per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose o booster, anche se ogni valutazione sui tempi necessita di una valutazione scientifica o novità in merito alla quarta dose. Il Green Pass base da ieri servirà per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Sarà inoltre necessario per entrare negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali. Il certificato verde non servirà per acquistare prodotti alimentari di prima necessità. Da ieri via libera anche all'obbligo vaccinale per gli over 50, salvo chi ne è esentato per motivi di salute. Per chi non è in regola, ha previsto una sanzione di 100 euro una tantum e sarà erogata dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultati nell'anagrafe vaccinali regionali e provinciali. Dal 15 febbraio prossimo inoltre il nuovo decreto introduce l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. Anche in questo caso l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Intanto con l'impatto della pandemia cambia anche il paniere Istat per l'inflazione che si fa sentire sulle tendenze di acquisto degli italiani. Tra i prodotti rappresentativi dell'evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative entrano nel paniere 2022 la sedia da pc, frigitrice ad aria, saturimetro, psicoterapia individuale, test sierologico, molecolare rapido per covid-19, poche attaccavai e streaming in musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.